Si procede per regolamentare al meglio il traffico in questione di Amalfitana, si diceva nel futuro l'obiettivo finale è quello della ZTN, per ora si inizierà con altri provvedimenti. Sì, noi da mesi stiamo lavorando con le altre amministrazioni, i sindaci, ma non solo la regione e la provincia, confrontandoci anche con le associazioni di categoria, con i sindacati, per cercare di trovare le migliori soluzioni possibili e che siano anche corrette da un punto di vista giuridico, proprio per regolamentare in qualche modo quello che è un dato obiettivo, un traffico eccessivo, insostenibile da parte della Coste di Amalfitana. Ecco, potrei dire che il concetto di sostenibilità è quello che ci sta muovendo sempre come prima base per affrontare questa problematica. I problemi sono legati sia ai trasporti su autobus, infatti stamattina abbiamo fatto l'incontro con gli autisti e la stessa società della Sita praticamente, per cercare di regolamentare quel tipo di materia, sia chiaramente anche l'afflusso notevolissimo di automobili. Si sta lavorando su queste ipotesi, abbiamo ripreso un lavoro già fatto in qualche modo, lo stiamo arricchendo, siamo fiduciosi che nel giro di poco tempo riuscirà ad arrivare a definire in modo completo, per questo periodo dell'anno, residuo estivo chiaramente, primaverile ed estivo, definire praticamente dei provvedimenti che possano in qualche modo alleviare la situazione. E' possibile più o meno individuare questi che possono essere i primissimi provvedimenti delle prossime settimane? Ma guardi, un contingentamento in qualche modo, una riduzione della cosa sia da parte degli autobus sia da parte delle automobili. Stiamo ancora studiando in qualche modo, stiamo definendo, rifinendo il modo in cui farlo in accordo tutte le istituzioni. Vediamo, speriamo di arrivare in fondo. Grazie, grazie. Grazie sempre. Alla fine che risultato si è ottenuto? Siamo sulla strada giusta? Abbiamo fatto un ulteriore confronto anche con i sindacati della Sita, con la Sita abbiamo ribadito la nostra volontà, la nostra disponibilità a portare avanti quelle soluzioni che il tavolo prefettizio aveva già in un certo senso sviscerato prima di questo ponte di Pasqua e del primo maggio. Quindi l'ipotesi, insieme anche alla Regione Campania, è di approvare comunque un provvedimento di limitazione con delle finestre autoregolamentate e in un certo senso monitorate dalle polizie municipali e delle varie amministrazioni, con una serie di ulteriori provvedimenti di carattere restrittivo che siano ampliati anche alle auto private, su cui proprio nei prossimi giorni faremo un ulteriore confronto tecnico con Anas, con la Regione e con le varie polizie municipali. C'è già un'idea su come strutturare questa ZTL, come l'ha definita il prefetto? La ZTL è un progetto più di ampio respiro, che prevede contingentamenti non solo di carattere veicolare, ma intervengono in maniera sostanziale sui flussi turistici, quindi tutta una serie di attività che vedranno coinvolte non solo le categorie che materialmente operano sulla statale, ma stiamo parlando di integrare il sistema dei parcheggi, delle prenotazioni, dei trasporti marittimi, quindi la ZTL è un progetto di ampio respiro, sulla cui proposta del Sindaco di Amalfi c'è stata una condivisione assoluta. Nell'immediato abbiamo comunque la necessità, dopo l'esperienza di questo ponte, di mettere mano a un correttivo all'ordinanza 29-2013, che purtroppo si è rivelata inadeguata rispetto a quelli che sono i problemi di mobilità in costa di Amalfi. Quindi limitazioni sulla base degli orari, dei giorni, come si farà? La proposta precedente era su base oraria, quindi con delle fasce di mobilità, quindi un senso unico in direzione Vietri sul mare, con delle fasce orarie controllate dalle polizie municipali che gestirebbero il controsenso. Poi sono allo studio anche misure più forti per quanto riguarda i weekend, i periodi particolarmente intensi, o addirittura in periodo estivo, mi riferisco al Q di agosto, che potrebbero prevedere anche una riduzione del traffico anche delle auto. I targhi alterni.